Buongiorno a tutti e benvenuti alla presentazione di Heritage Hub, la nostra nuova casa. E' la prima volta che un costruttore presenta la propria storia con una chiave di lettura trasversale, multitematica e multibrand, che aiuta a leggere meglio lo scenario storico e tecnico dietro un'evoluzione dei modelli. Con questa iniziativa vogliamo promuovere un punto di vista diverso dal solito. Infatti accanto alle auto più celebri o le più ricercate proponiamo alcune perle rare per appassionati collezionisti. Percorrendo la navata centrale si svelano le otto aree tematiche che abbiamo pensato per raccontare alcune delle nostre auto d'epoca con un approccio innovativo. Le vetture, otto per ciascun'area e quindi 64 in totale, sono esposte secondo una logica multibrand e coprono un arco temporale di circa un secolo. La collezione, esposta sui due lati più esterni del padiglione, è stata invece divisa per marchi e un serbatoio di circa 200 auto da cui attingeremo per rinnovare periodicamente l'installazione centrale con le mostre tematiche. Oggi, con la nascita dell'Heritage Hub, portiamo qui anche un esempio evidente nel nostro patrimonio di idee e innovazioni. Le vetture che vedete qui hanno fatto la storia dell'automobile. Questo luogo, che oggi siete i primi a vedere, vuole essere anche uno spazio aperto alla nostra città. FCA Heritage, con l'Heritage Hub, acquista un portone di ingresso verso i propri servizi da offrire agli appassionati, ai collezionisti, a chi possiede una vettura dei nostri marchi Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo, per poter accedere a dei servizi che sono quelli del restauro, della riparazione e della manutenzione programmata. E qui, nelle vicine officine classiche, presso il Dipartimento di Abarth, FCA Heritage svolge proprio questo lavoro di approfondimento, di cura e manutenzione, oltre alle certificazioni di autenticità con il rilascio del famoso booklet di informazione e di autenticità. Ci sono presenti otto isole tematiche che tengono assieme per ognuno dei moduli otto vetture, quindi abbiamo 64 vetture all'interno della scena. Ci sono storie di persone, progettisti, come volevo che questo posto riuscisse a raccontare, appunto come se ci prendessero per mano gli stessi artefici delle vetture e dei marchi Fiat, Lancia e Abarth, in questo nucleo torinese della storia dell'auto, che viene raccontato per temi e per imprese gloriose. Essere a Torino in uno spazio del genere vuol dire collegare, vuol dire creare discussione con tutti gli appassionati, con le organizzazioni di collezionisti, con un pubblico anche eterogeneo. Qui vicino abbiamo anche il centro stile del gruppo FCA, insomma un modo per interconnettere persone dell'azienda e l'esterno in uno spazio di discussione. E' il genius loci di un perimetro neanche tanto grande tra Mirafiori, Corso Marche e Borgo San Paolo, dove erano appunto anche le sedi di Abarth e Lancia, per creare un unicum e una piazza di discussione generale. Grazie a tutti.